Questo video riguarda i migliori tre antenne omnidirezionali per camper. Il vincitore della qualità nel nostro antenne omnidirezionali per camper va al CASER Antenna 4G. Questa antenna 4G MIMO omnidirezionale di forma cilindro è conveniente per la ricezione segnale LT e difficile all'interno della casa, migliora i segnali ricevuti, la velocità, a seconda dell'operatore, se correttamente posizionato ed altezza. Con questa antenna avrete un segnale al massimo, vedrete la differenza del speed test, molto stabile e la connessione è nettamente più veloce. Per chi non ha ADSL o fibra ma solo 4G, sono soldi ben investiti. Per Huawei B525, B618, B593, E5186, B310, B315, Blink DWR921, TP-Link Archer MR200 box B528 4G e E5180 Netgear, modem hotspot con adattatore 9 colon costaricani ORTS9, è inclusa nella confezione, e altri ancora. È molto importante scegliere un buon router 4 grammi da usare con questa antenna. Con la funzione di impostare manualmente le bande nel router. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Helio Magnet Antenna. L'amplificatore incorporato ha un guadagno elevato di 30-33 dB e garantisce una buona ricezione HDTV-FM, DAB da stazioni trasmesse da diverse direzioni a 360 gradi. Può essere alimentato da qualsiasi sorgente USB cavo da USB A5,5X2,1 incluso più carica auto veloce USB A4 porte gratuita. Ideale per camper, barca, camion, rulotto o campeggio. Piccolo e portatile. Molto facile da montare. Viene fornito con una grande varietà di fissaggi, permanente o magnete, installazione facile e veloce. La costruzione a tenuta d'aria consente all'antenna di operare in qualsiasi condizione meteorologica. Adatto per la ricezione di segnali TV in tutto il mondo, Europa, America, Asia, Australia e così via, in qualsiasi paese tu stia viaggiando. Accetta tutti i sistemi TV analogici e digitali disponibili nel mondo, DVB-T, T2, ATSC, ISDB, DTMB. Omnidirezionale. Significa che non ti preoccupare dell'allineamento e del posizionamento in quanto accetta il segnale da tutte le direzioni 360. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della performance premium e l'antenna omnidirezionali per camper è il Tronic 427017. Questa antenna omnidirezionale è perfetta per l'uso fisso o portatile. Non è più necessario regolare l'antenna ad ogni arresto grazie alla sua forma rotonda, che cattura in tutte le direzioni. Questa antenna omnidirezionale ha una larghezza di banda adatta al nuovo standard UHF, larghezza di banda UHF più breve, consentendo la ricezione dei segnali digitali hertziani e riducendo al contempo le potenziali interferenze legate al 4G. Questa antenna è stata progettata per migliorare l'efficienza dei filtri 4G montati a valle dell'antenna, RIF, Metronic 432165, o sulla presa antenna TV, RIF, Metronic 432165. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.